Parto o non parto? Questo è il dilemma. Ma conviene partire a Londra adesso? Molti mi fanno sempre la stessa domanda, specialmente poi in questo periodo. Certo che conviene andare a Londra adesso, brutto cazzone! Anzi, se volessimo essere un po' più precisi, stai già in ritardo, amico mio! Al tuo posto incomincerai a ragionarci super bene senza perdere altro tempo, eh? In questo video, quindi cercherò di aprirti finalmente gli occhi una volta e per tutte e sarai tu, alla fine, a dirmi se conviene o meno andare a Londra adesso oppure continuare a rimandare la tua partenza all'infinito. Sigla. Hai un lavoro? Eh? Se non hai un lavoro, solo questa risposta che hai appena dato dovrebbe farti alzare da quella sedia brutto, ciccione, pantofolaio che non sia altro, fare le valigie e prendere il primo aereo per Londra. Qui, chiunque ha una possibilità, non importa quanti anni hai o se hai più o meno esperienza nel settore, bla bla bla. A Londra chi vuole lavorare, ma solo chi vuole lavorare davvero, lavora subito. Ovviamente c'è bisogno di flessibilità, eh, 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 logico ed un minimo di furbizia che non guasta mai. Ma credimi amico mio, cinque passi fai e cinque lavori trovi a Londra. Lavori a nero o sei sottopagato? Non ci sono scuse. Se ti lamenti della tua posizione lavorativa, perché sottopagata e magari anche a nero e non fai nulla per cambiare la tua situazione, allora anche tu sei con causa della tua vita di merda. A Londra funziona così. Trial shift, che sarebbe il turno di prova ed è anche retribuito. Assunzione a tempo determinato della durata di tre mesi e poi assunzione a tempo indeterminato allo scadere dei tre mesi. Tutte le aziende a Londra inoltre offrono dei benefici che si chiamano benefits per i loro dipendenti. Vuoi un esempio? Così ci capiamo un poco meglio. 28 giorni di ferie pagate, medico pagato, dentista pagato, malattia pagata, due giorni di riposo a settimana, passi gratuiti durante il turno di lavoro, sconti sulla merce venduta, feste aziendale e tanto altro. Sei rimasto a bocca aperta, mero? Mero, certo. Se hai voglia di cambiare la tua vita e vuoi trovare un buon lavoro a Londra, consulta la pagina del servizio di ricerca e l'amore su www.livinglondonway.com. Se non conosci bene la lingua potrebbe tornarti davvero molto utile. Altrimenti, vedi, da là solo siamo amici lo stesso. Hai finito gli studi? Quanti ragazzi, guaiù, ho conosciuto che hanno buttato i loro anni post-diploma o post-laurea inseguendo una chimera. Una fantasia in docerville. Sempre convinti di riuscire a fare la differenza, ostinati e speranzosi di ottenere un posto di lavoro dignitoso e di non essere sfruttati. In Italia. Tutti, e dico tutti, dopo qualche anno passato tra uno stagio non retribuito e qualche lavoretto saltuario, li ho visti poi prendere la decisione di partire alla volta del Regno Unito. Perché quindi buttare anni interi nel nulla più totale? Se queste persone fossero partite appena terminati gli studi, a quest'ora avrebbero così tanta esperienza lavorativa alle spalle che probabilmente, dico probabilmente, ora si sarebbero potuti candidare per posizioni lavorative manageriali e non pulire i classici cessi. Purtroppo invece c'è chi perde tempo, ma chi perde tempo nella vita poi prima o poi lo acchiappa a quel servizio. Ti conviene quindi stare lì con le mani in mano attendendo un lavoro che mai arriverà? Su dai, dai ti prego, ti prego, muoio dalla voglia. Alla luce di quanto detto, conviene andare a Londra adesso? Ciao ne! Ciao! 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 Ciao!